Il 6 giugno ci sarà un'importante iniziativa sul nostro territorio, infatti presso un Tempio SIC faremo uno screening gratuito grazie alla collaborazione tra il Banco Alimentare che insieme a Darci abbiamo fondato nel territorio e che si occupa dell'emarginazione e dell'alimentazione dei più poveri e grazie a un episodio di solidarietà che vede coinvolta la Flai CGL e la Funzione Pubblica Nazionale. Così sarà possibile testare i lavoratori che altrimenti avrebbero dovuto pagare un tampone e non hanno le risorse per poterlo fare e contribuire in questo modo ad aiutare la sanità pubblica a contrastare il fenomeno della pandemia. Questa è la contrattazione inclusiva che nel territorio abbiamo sviluppato e che usa le sinergie delle varie categorie per cogliere un obiettivo importante, stare vicini ai più bisognosi e a quelli che hanno meno risorse per stare attenti alla loro salute. Grazie a tutti!